ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video di apertura blind bags nuove uscite questo sarà un video molto shallow molto easy a fine giornata insomma diciamo molto semplice però voglio aprire con voi queste tre misteri che sono nuove e non le avevo mai viste in giro onestamente soprattutto queste due iniziamo però da quest'anno e il mezzo allora questa è per i 100 anni della disney è una mystery figure della nano metal fix cioè sono in metallo piccoline dipinte e ci sono vari personaggi della disney come sapete quest'anno la disney ha fatto un sacco di serie particolari per i 100 anni e quindi ecco ci sono tutti questi personaggi super carini ce ne sono alcuni molto belle e due misteri penso siano due topolino o minni non lo so comunque io vorrei allora buzz chisher cat alice voody wally b max e stitch praticamente quasi tutti però vabbè ce ne sono alcuni molto molto carini e questi queste tre me le ha regalate il mio ragazzo questa costava mi sembra 4 euro 5 euro una cosa del genere 4 e 90 una cosa così e le ho trovate al toy center negozio di giocattoli quindi niente direi di andare ad aprirle e vediamo chi trovo e vediamo se valgono i 5 euro allora c'è la carta delle istruzioni vediamo uh alice carina allora vediamo com'è dipinta però allora dai carina per essere minuscola è veramente piccola guardate è come un'unghia è molto pesante perché è in metallo ne avevo aperte una di harry potter di questo tipo però è carina dai devo dire la faccia è particolare gli occhi soprattutto però non è male cioè per essere così piccola i dettagli sono molto carini guardate ad esempio le le ciglia dipinta bene insomma via il vestito così così ma le le ciglia molto carine carino anche il fiocco bella dai mi piace poi piccolina occupa poco spazio mi piace molto adesso abbiamo questi due bitti pop ho aperto con voi le scatole quelle diciamo a quattro figure però ho visto che ci sono anche delle mystery blind bag a una sola figure inizierei da quelle di harry potter che avete già visto sul mio canale poi passiamo a queste della disney di questo tipo qua ho visto solo queste però ci sono quelle appunto a quattro figure con varie cose tra cui anche nightmare before christmas le principesse la disney appunto star wars e harry potter e niente in questa serie qua piccolina abbiamo questi personaggi che sono tutti uno su dodici quindi stessa rarità non ci sono i misteri che trovate invece soltanto in quelle a quattro di queste qui vorrei silente nick quasi senza testa la meg granit bellatrix e boh più o meno questi insomma gli altri ce li ho quindi spero non uno di loro tre ma se capita non fa niente e niente andiamo ad aprirli e vi faccio vedere come sono allora apriamo uno due e tre uh agrid non mi ricordo se c'è l'agrid mi sa di no boh non lo ricordo sinceramente allora adesso lo vado ad aprire è fatto così sono dei mini 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 fanco pop eccoli con la scatola praticamente originale e si può anche togliere il mini fanco e lo potete tenere esposto carino molto carino mi sembra ripeto di non averlo però controllerò molto carino mi piace col suo ombrellino molto bello e questo è il primo e questi costano sempre uguale 4 e 98 costavano adesso di questi non ne ho nessuno quindi non posso trovare doppi vorrei tantissimo sorcerer mickey ma anche mini da principessa mi piacerebbe molto se no pippo pluto e anche anche lei anche paperina non mi dispiace chop pure carino comunque tutti carini e il primo direi che questo mi piacerebbe trovare vediamo a pippo carino pippo mi piace gufi è uno dei miei preferiti quindi ci sta tiro fuori eccolo molto carino è fatto veramente bene pure meglio di degli altri insomma molto bene è fatto così carinissima la scatola e anche lui può essere tirato fuori veramente sono minuscoli non so se vi rendete conto però questa è la mia unghia e sono molto più piccoli della mia unghia però guardate quanto sono fatti bene carino mi piace tantissimo pippo è veramente carino e niente quindi questa era l'apertura di oggi mi piacciono tutti e tre tantissimo e ringrazio il mio ragazzo come li ha regalati sono veramente adorabili e fatemi sapere se li avete acquistati o li acquisterete se avete trovato insomma altri set anche quelli a quattro figure e io ho recensito quelli della DC e quelli di Harry Potter quindi li trovate sul canale e per il resto ci vediamo al prossimo video mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina e non perdetevi gli shorts ne apro apro un sacco di cose anche negli shorts quindi guardatevi anche quelli alla prossima ciao un bacione